Salve, siamo qui a presentarvi un progetto che abbiamo fatto io e il mio amico Io sono Sebastiano Biollo Io sono Antonio Grozza Inizio spiegandovi questo progetto che riguarda blockchain e cryptocurrency Per chi non sapesse cos'è, blockchain è un database per la registrazione di transazioni o qualsiasi cosa che riguardi un dato Questo dato viene inserito dentro un blocco e ogni blocco prevede la parte di un dato e di due hash cioè un hash è un identificativo univoco per identificare un oggetto e questo rende possibile creare una catena di blocchi collegati uno dopo l'altro senza che siano obbligatoriamente sequenziali se per esempio il hash del blocco prima è diverso il blocco non viene accettato Oltre a questi dati vengono salvate transazioni e smart contract Ma cosa sono gli smart contract? Sono semplicemente dei contratti solo che sono digitali quindi vengono usati per per fare degli accordi tra delle persone come un esempio può essere che un una persona vuole fare un progetto e ci sono dei finanziatori quindi i finanziatori mettono i soldi dentro uno smart contract che è un piccolo programma inserito dentro la blockchain e alla realizzazione del progetto questi soldi dallo smart contract vengono passati allo sviluppatore se però lo sviluppatore non raggiunge l'obiettivo questi soldi vengono riportati indietro a a chi a chi li ha messi dentro nello smart contract ok va bene adesso io parlerò un po' delle innovazioni più recenti nel nel mondo delle criptomunete che si possono dividere in tre categorie principalmente lo sharding che sostanzialmente divide la blockchain in tante blockchain più piccole in modo che non tutti devono sapere tutti i blocchi però si possono conoscere solo una parte della rete e comunque essere sicuri dell'integrità poi il proof of stake che è un sistema alternativo per decidere i blocchi ed è molto più veloce e migliore dal punto di vista energetico e web assembly che è un altro modo per scrivere questi smart contract ed è molto più semplice rispetto alle soluzioni già esistenti quindi lo sharding lo sharding praticamente divide una rete in pezzi più piccoli e permette di comunicare tra gli uni e gli altri e permette molte più transazioni al secondo il problema attualmente con le blockchain è che visto che tutti devono vedere tutto è molto e perché questi blocchi sono limitati di grandezza è molto difficile mettere abbastanza transazioni per accontentare tutti quindi dividendola in pezzi più piccoli renderebbe possibile avere molte più transazioni al secondo però come lato negativo è che rende gli attacchi al 51% per il proof of work o ai tre quarti per il proof of stake molto più fattibili perché al posto di avere la maggioranza tutta la rete basta averla su un pezzo minore perché non l'ho spiegata però vabbè per spiegare lo sharding devo spiegare questa sulle dati questa qui è un mercle tree praticamente un mercle tree permette di provare in modo efficiente la presenza di un nodo all'interno di un albero funziona hashando a coppia i nodi l'uno con l'altro finché non rimane una sola hash quella lì viene chiamata mercle root questo qui è il disegno semplificato di una blockchain con lo sharding quindi al lato abbiamo due shard e in mezzo abbiamo la chain principale praticamente una serie di nodi detti collator per ogni blocco pubblicano sulla chain principale questo mercle tree e poi se io voglio mandare dei soldi dalla prima shard alla seconda shard come faccio? io pubblico una transazione sulla prima shard e aspetto che venga inclusa in un blocco poi vado sulla seconda shard e pubblico una prova che quella transazione era stata inclusa in un blocco e che quella transazione era diretta alla mia shard a quel punto la seconda shard si salverà l'hash della transazione come bruciata per non poterla riutilizzare due volte e mi daranno le monete sull'altra shard e tutto questo senza creare tante transazioni sulla chain principale il consensus è un problema molto importante nella blockchain perché come si fa a decidere qual è la blockchain reale se tutti possono proporre blocchi esistono tre soluzioni principali a questo problema attualmente proof of work proof of stake e pbtf che però non lo spiegherò la prima è la proof of work ed è quella attualmente utilizzata per le più grandi blockchain per esempio bitcoin e term usano proof of work e funziona così si fa un hash di un header del blocco e un announce e chi riesce a trovare un hash che sia minore di una difficoltà di un numero che viene deciso dalla rete allora rende quel blocco accettato e viene dato un reward a chiunque abbia trovato questa soluzione questo sistema però non è ideale perché A utilizza un sacco di corrente visto che è molto profittabile minare queste criptomonete un sacco di gente si è messa a sviluppare ASIC e anche per Ethereum usano GPU normali da computer e questo usa un sacco di corrente per esempio il consumo attuale di Ethereum è più o meno lo stesso del Venezuela e questo qui è un grande problema poi è centralizzato perché la gente che ha le risorse per avere queste farm per trovare hash ha un grande incentivo ad investire di più per l'economia di scala quindi se io investo se qualcun altro investe due volte il mio capitale lui avrà più che due volte il ritorno in di ritorno sull'investimento e poi un altro fattore molto importante è il costo della corrente quindi tutti questi miner si metteranno più o meno nella stessa area geografica per approfittare della corrente che costa poco il secondo metodo è proof of stake in cui i vari nodi praticamente ghiacciano dei soldi e devono seguire delle regole generare dei blocchi fare dei voti dipende dall'implementazione e in cambio di questo loro servizio vengono pagati dalla rete una quantità anche abbastanza piccola per esempio nell'implementazione attuale di Ethereum pensano di essere sul 3% annuale di ritorno sull'investimento poi si sono molto più efficienti a livello energetico perché non bisogna fare tante hash è molto più veloce perché non bisogna aspettare che ne so 15 minuti come in bitcoin per un blocco 15 secondi come in Ethereum però si può abbassare tantissimo il tempo di blocco tipo 3 secondi come funziona il proof of stake in poche parole ci sono delle persone che depositano soldi sulle blockchain queste persone vengono definite validators questi gruppi di validators hanno un proprio stake ovvero hanno un proprio valore nella blockchain in base ai soldi che hanno messo e più soldi hanno messo più probabilità hanno di essere presi per creare un nuovo blocco e creando un nuovo blocco hanno un reward di soldi e così più più soldi metti più hai l'incentivo di rimanere nella blockchain per accumulare sempre più soldi inoltre 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 ci sono ci sono dei voti per per decidere quando fermare quando accettare che fino a un certo punto quella parte di blockchain è valida e deve avere un consenso di almeno due terzi di tutti questi validators se ci sono dei voti falsi ci sono delle slash condition che riducono riducono i tuoi soldi perché appunto hai violato queste regole poi gli smart contracts praticamente attualmente la principale blockchain che supporta gli smart contract è Ethereum ed Ethereum attualmente utilizza una sua VM per i contratti si chiama EVM è una macchina virtuale a 256 bit e attualmente supporta due linguaggi di programmazione principali che sono Solidity e Viper visto che questa VM è così diversa è abbastanza difficile portare vecchi compilatori a questa VM è comunque il reinventare la ruota che i programmatori devono abituarsi ad un nuovo linguaggio ad installarsi un nuovo compilatore e a tutto l'environment nuovo che comunque è la blockchain noi crediamo che questa cosa renda molto più più lenta l'adozione di questa tecnologia e quindi nella nostra sì nella nostra implementazione utilizziamo WebAssembly WebAssembly non è altro che una VM molto semplice pensata per essere eseguita dentro i browser è stata sviluppata da il gruppo V3C vabbè però il lato positivo è che viene supportata già da tantissimi linguaggi di programmazione per esempio si possono scrivere smart contract in quei linguaggi lì Ask e il Java non l'ho testato però e quindi rende la barriera di adozione molto più bassa adesso se il ping permette provo a fare una demo quindi questo qui è un contrattino che c'è scritto in si vede? ah questo qui è che fastidio questo qui è un contrattino che avevo scritto in WALT che è un linguaggio molto simile a TypeScript che fa una cosa molto semplice praticamente esporta una funzione che si chiama claim che è chiamabile dall'utente della blockchain e cosa fa? praticamente si salva il valore della transazione controlla se il valore della transazione è maggiore del massimo che ha mai ricevuto e se non è massimo cancella tutta l'operazione se è maggiore del massimo imposta il proprietario di questo contratto a chi l'ha mandato e poi paga il vecchio massimo al nuovo proprietario e poi ci sono due funzioni qui vuote per far vedere il parsing lì è il mio contratto che ho compilato in un file non ci vedo questo qui quindi questo qui è il mio contratto che così ci vedo anche io magari praticamente importa dall'avm delle funzioni e poi ne esporta delle altre e poi fa le operazioni il web assembly poi una volta che ho questo contratto se attivo il nodo ok perfetto ok di qua non è di qua perfetto ok adesso che parte sì adesso ok 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 grazie Grazie. 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 Quale dei tre? Diciamo che quei due saranno essenzialmente uguali. Anzi, questo sotto. Ok, per adesso quelli lì sono blocchi vuoti che contengono blush precedente e nient'altro. Possiamo vedere che arrivano anche su quest'altro nodo. Adesso proverò a fare una transazione e a caricare un contratto sulla blockchain. Quindi io adesso sto facendo una transazione utilizzando il wallet test a quell'indrizzo. Dai. Su. Ok. Eh? Insufficient balance. Perfetto. Ho usato il wallet vuoto. Adesso si può vedere che di qui è arrivata la transazione e che viene inclusa nel blocco dopo e si può vedere che il sender ha il balance che cambia e il receiver anche. poi i blocchi successivi sono normali però la funzione più interessante è che posso caricare i contratti quindi qui qui faccio una transazione però insieme alla transazione aggiungo anche un contratto sperando che vada ok perfetto, qui si può vedere l'indirizzo del contratto che poi è deterministico quindi anche nel terminale che fa la transizione è molto facile determinarlo però se adesso prendo questo indirizzo e vado di qua posso interagire col contratto quindi andiamo a fermare il mio nodo in locale ok 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 no, adesso si ok attivo l'indirizzo ah, mi manca il wallet noi siamo test ok ok grazie what no che non è andato perché non va il wallet è giusto? faccio un altro proposal allora lo ricarico ah, sono stupido ho usato il wallet dell'utente ah, ecco perché non andavo vabbè a questo punto e non ho internet down no, sì che va what vabbè non l'avevo mai testato con un secondo di ping però ok finalmente ok quella è la transazione perfetto new contract qui vabbè lo faccio diretto in remoto stupido no? ok 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 va bene adesso tipo ho una semplice scelta interattiva per interagire con questo contratto posso chiamare per esempio exec e mi elencherà le funzioni che sono incluse nel contratto che se guardiamo la sorgente sono quelle tre che avevo messo posso selezionarle terminale sbagliato vabbè posso selezionarle una inserire quanto voglio mandare con questa transazione e poi la manderà alla rete e lo eseguirà credo che no evito evito vabbè non voglio panicare il nodo che buon casino vabbè poi ha un altro paio di funzioni per esempio memory che printa un extamp della memoria del contratto e qui possiamo vedere cosa ha salvato il contratto in questo caso visto che non è mai stato eseguito non ha ancora salvato niente e poi anche le globali che sono un concetto un po' diverso su web assembly però fanno più la stessa cosa e comunque sì per adesso supporta più o meno 45 transazioni al secondo che più o meno due volte Ethereum però questo lo fa A via proof of stake B facendo un trade off di centralizzazione deve salvare molti più blocchi e quindi occupa più spazio però per adesso sì per adesso va bene Demo non poteva andare peggio però comunque avete domande? mi avete più o meno risposto prima ma volevo sentirlo un attimo meglio allora questa è una VM che gira che esegue codice praticamente distribuita su n nodi esattamente come la EVM sì la differenza principale è il linguaggio usato e la proof of work proof of work o proof of stake utilizzata o c'è altro? ok un'ottima domanda la VM l'abbiamo cambiata perché non abbiamo le risorse per reinventarci i nostri compilatori e perché i linguaggi di programmazione di Ethereum fanno abbastanza schifo poi cambia la proof of stake e abbiamo un'architettura abbastanza diversa da Ethereum Ethereum ha questa tendenza di reinventare la ruota per esempio quando hanno deciso di passare a web assembly per versioni future non si sono tenuti una VM standard però si sono implementati dei loro opcode oppure per mandare un messaggio tra due nodi sono implementati la loro funzione per fare marshalling mentre noi siamo protobuf quindi noi siamo molto più standardizzati e poi si proof of stake e Casper Casper è l'implementazione di proof of stake di Ethereum teorizzata noi l'abbiamo implementata prima di loro adesso la demo non è stata proprio ottima perché i contratti vanno da due ore fa più o meno però si vabbè altre domande non so se hai risposto posso un'altra? sì sì certo dal punto di vista della sicurezza abbiamo visto che Ethereum ha avuto un sacco di problemi di sicurezza viste le come si dice i default non proprio ottimali del linguaggio Solidity c'erano problemi però anche nella VM come la vostra VM con le vostre primitive potenzialmente risolve gli eventuali problemi di sicurezza che ha o aveva Ethereum ed è una domanda complicata sì ok dal punto di vista dei default è molto più sano perché in in Ethereum di default puoi chiamare tutte le funzioni di un contratto tranne se le marchi esplicitamente come private noi devi fare il contrario marcarle esplicitamente come esterne perché si è spento ah è andato in standby va bene quindi da quel punto di vista è va vero ah basta basta ok va bene scusate e quindi da quel punto di vista è vero per i bug dell'AVM da quel punto di vista WebAssembly è uno standard molto più testato nel mondo reale quindi il bug dell'AVM di Ethereum a cui ti riferivi era una risk condition a livello di standard che non lo cavano e quindi potete fare delle cose un po' particolari vabbè nel nostro caso no perché tutto il mondo si ferma mentre eseguiamo un contratto quindi non è che non puoi fare i trucchetti strani con sender bellissimo vabbè quindi si da quel punto di vista è meglio di Ethereum poi abbiamo una VM in un linguaggio di programmazione type safe quindi non abbiamo memory corruption non abbiamo JIT quindi è anche molto più sicuro da quel punto di vista